Buon salve ragazzi e benvenuti in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter e What's Mystery che non è veramente un'avventura eccetera Ma è soltanto un video per dirvi che qua nella descrizione c'è il link al mio gruppo Telegram dove ho messo la nuova APK 1.6.0 Per chi non avesse il telefono compatibile che non può giocare, altrimenti spoiler per voi, spoiler per voi, ci siamo andati più avanti Cosa è successo in questo aggiornamento l'ho già detto in un altro video precedente, comunque adesso possiamo mangiare con un amico per aumentare l'amicizia E possiamo giocare a gobiglie, ecco un altro piccolo spoiler, che insomma per aumentare sempre l'amicizia Questa non so se c'era prima, comunque sotto nel mio canale Telegram lascio la APK Mentre fra un paio di giorni, per chi non avesse Telegram, lo lascerò anche in descrizione a questo video Mi dispiace, il marketing è così Comunque sia ragazzi, per alcuni tra l'altro, per alcuni c'è anche un'altra novità, non è per tutti, io per esempio non ce l'ho Per alcuni, se vanno a Hogsmeade, possono bere della birra ai manici di scopa Non so perché non ce l'hanno tutti, io questa cosa non ce l'ho Quindi, boh, spero che arrivi anche per me presto, perché cavolo, la burro birra, la voglio Quindi ci vediamo alla prossima puntata di Harry Potter e Hogwarts Mystery, fatto il misfatto e insomma Scaricate! Ma solo se non avete la compatibilità, questa non è una versione strana o altro È la stessa identica versione del Play Store, cioè quella a cui sto giocando io, esattamente questa qui Solo che per alcuni non è compatibile, quindi io per esempio la uso sul tablet che non è compatibile Fatto misfatto